Quattro studenti di medicina fingono un attacco terroristico in ospedale e lo scherzo fa scattare l'intervento delle forze speciali. Accade a Nizza, in Francia. I ragazzi indossavano delle tuniche e mostravano armi giocattolo. Dopo l'allarme lanciato da una dipendente, circa 70 agenti sono intervenuti per arrestarli. I quattro sono stati subito rilasciati.